La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni politiche 2022. 155 i seggi presi al Senato, mentre alla Camera ha sfiorato il 44%, assicurandosi così 235 deputati. Nella coalizione a prevalere il Partito di Fratelli d'Italia, capitanato da Giorgia Meloni, Fortecrolla invece per gli alleati, Lega e Forza Italia. Il totale della coalizione garantirebbe così la maggioranza in Parlamento, ma non i due terzi dei seggi. Il centrodestra ha preso tutto anche in provincia di Brescia. Sono quattro i parlamentari bresciani eletti nei collegi uninominali di Camera e Senato. Per quanto riguarda la Camera, la candidata della Lega Simona Bordonali ha vinto nel Collegio Lombardia 3 uninominale 3, con un 61,76%, dato che registra il voto più alto tra i collegi bresciani. Centrodestra protagonista anche nel Collegio Lombardia 3 uninominale 4, con la vittoria di Maurizio Casasco di Forza Italia, con il 48,89% dei voti. Nel Collegio Lombardia 3 uninominale 5, vittoria per Gian Giacomo Calovini, di Fratelli d'Italia, con il 60,44%. Per il Senato, nel Collegio Lombardia 1 uninominale 8, la vittoria è del candidato della Lega, Stefano Borghesi, con il 54,66% dei voti. Confermato il centrodestra anche per ciò che concerne i collegi uninominali in Bergamasca. Alla Camera, vittoria di Rebecca Frassini della Lega, con il 52,97% dei voti nel Collegio uninominale di Bergamo, e di Alessandro Sorte, di Forza Italia, candidato nel Collegio uninominale di Treviglio, dove il centrodestra ha preso quasi il 60% delle preferenze. Al Senato, confermata con il 55,2%, la leghista Desi Pirovano, sindaco di Misano Geradadda, candidata per il Collegio uninominale di Bergamo, e Giulio Terzi di Sant'Agata, di Fratelli d'Italia, eletto con il 60,28% delle preferenze nel Collegio uninominale di Treviglio. Per il centro-sinistra, eletto invece Antonio Misiani, Partito Democratico, protagonista di un testa a testa nella notte nel Collegio uninominale al Senato, nella circoscrizione di Milano Centro, con il 39,8% delle preferenze. Andrea Tremaglia, candidato al plurinominale per Fratelli d'Italia, con molte probabilità sarà invece eletto alla Camera, grazie ai risultati del proporzionale.